Ma come cazzo si fa? Io non do la colpa a Sekulov per il gol che abbiamo preso, io la do a Bremer, quando hai quella palla lì, spazza, la devi buttare a 20 secondi dalla fine, quando più lontano possibile, invece dobbiamo fare gli stilosi, riconsegniamo palla alla Lazio e ce lo becchiamo nel culo. Cazzo vuoi da Sekulov, Sekulov ti deve salvare il culo, Ildiz ti deve salvare il culo, ma per favore, ma per favore. Questa è la Juve più scarsa della storia, questa è la Juventus più scarsa della storia, che ne vogliamo pensare, questa è la Juve più scarsa della storia. Ora, se siete onesti intellettualmente, guardate i cambi che ha fatto la Lazio e i cambi che ha fatto la Juventus. Alla Juventus sono andati Ildiz, Sekulov, Weah, Iling Junior e McKennie. Alla Lazio sono entrati Vecino, Gendusi, Luis Alberto, immobile e l'altro chi era? Vecino, Gendusi, Luis Alberto, immobile e l'altro ora non mi viene. Cioè, quindi capite la differenza? Capite qual è la differenza? Tempi grammi, ma molto grammi ci aspettano, molto grammi. Hai visto, Ducian, che cazzo ti hai fatto? L'hai visto, no? Che poi nel secondo tempo stavamo anche giocando un po' meglio, ma poi... L'avete visto l'inizio gara col Tridente? L'avete visto, no? L'avete visto il Tridente a inizio partita? Abbiamo veramente ballato col Tridente, poi ci siamo rimessi come ci dovevamo rimettere bene o male e poi ci arriva st'ingenuità. Noi abbiamo per forza, a 20 secondi dalla fine, noi dobbiamo creare la giocata, dobbiamo fare col risultato di restituire palla alla Lazio nella nostra tre quarti e beccarci sto gol. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, cazzo voi da Sekulov? Cazzo volete da Sekulov? Sekulov deve salvare il culo la Juventus? Ma davvero? Ce la vogliamo pigliare con Sekulov? Ma davvero? Ma per favore, quell'altro la dimettiti, basta, questa non è più Juventus, dimettiti. Lascia che se la piglino loro la merda in faccia. Che schifo, che schifo. Dove cazzo vogliamo andare con questi qua? Dove cazzo vogliamo andare con questa squadra? E voi volevate vincere lo scudetto con questa squadra? Davvero, io mi sono anche stancato a dirlo. Ho visto nel primo tempo errori tecnici veramente assurdi, errori tecnici davvero assurdi, ho visto nel primo tempo. Locatelli, De Sciglio, Bremer. Miretti inesistente. Mi dispiace Fabio, a me piace come calciatore, ma oggi è completamente inesistente. Chiesa nel primo tempo ha fatto buone cose, poi non so, io a questo punto l'avrei tenuto in campo, o forse stava pensando a martedì. Questa è una squadra veramente, oggi abbiamo avuto la piena dimensione di quanto vale questa squadra. I cambi dovete vedere, i cambi. Se poi voi pensate che Sekulov, Ildis, McKennie, Wea e... E cos'è la? McKennie, Sekulov, Ildis, Wea e Link Junior, siano meglio di Immobile, Luis Alberto, Vecino, Gendusi e non ricordo chi altro, allora voi siete malati di cervello. Io spero veramente che questo vada via, si dimetta, perché... Perché questa è una Juventus che non è degna della storia della Juventus, se non me la piglio più manco con i calciatori. Io me la piglio con quelli che pensano ancora che abbiamo una squadra di fenomeni. Io davvero me la piglio con chi pensa che abbiamo ancora una squadra di fenomeni. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Poi sull'atteggiamento in campo, che cazzo vuoi fare? Che cazzo vuoi fare? Ma davvero, noi giocavamo all'inizio con Chiesa. Ken è cambiato avanti. Quelli giocavano con Tati Castellanos, che non ha... Un attaccante discreto, nulla di che. Con Zaccagni, Felipe Anderson e l'altro. Come si chiama? Ah, ecco, Isaac, sei nell'altro che è entrato nella Lazio. No, ma non c'è veramente paragone, ragazzi. Noi abbiamo una rosa davvero... La versione calcistica della Ferrari 2020. È evidente, è chiaro. A me, onestamente, di qualificarmi alla Champions me ne frega fino a una certa. Non me ne frega un cazzo, a dirvi la verità. Perché è la scusa perfetta per non mettere mano al portafogli. È la scusa perfetta per non mettere mano al portafogli. Ma come si deve a questa squadra? Tempi di vacche magre ci aspettano. Tempi di vacche magre ci aspettano, davvero. male, malissimo, male, 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 male. Io oggi ho visto il Napoli, puo nei suoi limiti. Io poi guardo la formazione del Napoli, a cui oggi mancava Carascheglia. Politano, Raspadurio, Simen, il credente d'attacco. Il nostro credente d'attacco, Chiesa, Ken, Cambiaso. Il loro centrocampo, Traorea, Anghissà, Lobotka. Il nostro centrocampo, Rabiot, Miretti e Locatelli. che sulla carta dovrebbe essere un pelo superiore a quello del Napoli. Eh sì, eh sì. Come cazzo ci siamo ridotti, veramente. Che malinconia, ragazzi. Veramente, che fa male, fa male vedere una società che ha visto tanti campioni, tanti... tanta storia, che ha dato il maggior numero di campioni del mondo nella storia, ridotta così, costretta a schierare quattro ragazzini. Due, tre giocatori che non stanno in piedi e non altro. Alla fine la Lazio se l'è anche meritata, perché ha fatto un buon inizio, un buon finale di stagione, ma noi veramente siamo... è indecente sta storia. È indecente sta storia. Io fossi in Allegri, davvero, manderei tutti a cagare, ma... A me l'unica cosa che non mi convince di Allegri è... perché accetta tutto questo? Perché accetta tutto questo? C'è dell'indicibile da dire, non lo so. Non lo so. Fatto stare, ragazzi, che abbiamo fatto ridere l'Italia anche oggi. Con la Juventus più scarsa della storia. E non ci sono scuse oggi. Questa è la Juve più scarsa della storia. Neanche quella della Serie B era peggio di questa. Quella della Serie B aveva Buffon, Del Piero, Nedved, Camoranesi, Treseguet, Balzaretti, Boomsong, Chiellini, Marchisio. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Trovatemi una Juventus più scarsa di questa della storia. Veramente. Trovatemi una Juve più scarsa di questa della storia. Puttana Eva. Vabbè. Ora riparte il solito vomitorio, ma... I fatti sono questi. Nella Lazio entra l'immobile Luis Alberto Vesino, Gendusia e Isaksen. A noi andano Wea, McKennie, Sekulov, Eling Junior e Ildiz. Parlatemi ancora di Montengaggi, di Undici Nazionali e tutte le minchiate che sentite in giro. Dimettiti, Max. Dimettiti. 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 Capisco i 7 milioni, i più bonus, capisco tutti i soldi che ti danno, però... Anna, certa, poi c'è anche questione di dignità. Beccarmi una merda in faccia per colpa di chi ha... Io, per colpa di chi ha distrutto la Juventus, io francamente... oggi sono veramente deluso, amareggiato, amareggiato. Hanno distrutto la mia Juventus. non lo so, iscrivetevi al canale ragazzi, è pesante, è pesante. E' un po' di chi ha distrutto la mia Juventus. E' un po' di chi ha distrutto la mia Juventus. Grazie. Grazie.